Si ferma per una breve sosta ai bordi di una via vicina alla 4, l'autostrada Torino-Milano e tra i rifiuti abbandonati in un angolo scorge il corpicino esanime di un neonato. Macabra scena ieri sera davanti agli occhi di un automobilista di passaggio, poco distante dal casello autostradale di Novara Ovest. Il ritrovamento a poco prima delle 19, subito l'allarme alle forze dell'ordine, intervenute con la squadra scientifica della Questura, con il magistrato di turno e con i vigili del fuoco che hanno illuminato a giorno l'intera area. Il fatto è avvolto nel mistero, si cerca la madre del piccolo, le forze dell'ordine stanno scandagliando gli ospedali piemontesi e lombardi all'eventuale ricerca di una donna che possa aver partorito in casa e aver poi richiesto l'intervento dei sanitari magari per un'emorragia. Gli inquirenti brancolano nel buio, non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella dell'abbandono volontario da parte di qualcuno di passaggio. Secondo i primi riscontri del medico legale, il piccolo sarebbe morto da un paio di giorni ma al momento vige il massimo riservo. Si sa soltanto che si tratta di un maschietto abbandonato tra i rifiuti e le erbacce in una zona maledetta, già nota alle cronache locali per altri macabri ritrovamenti. Negli anni 90 il corpo di una prostituta straniera fatta a pezzi e due anni fa quello di una nigeriana di 21 anni un'altra prostituta, ora il neonato ritrovato per caso da un automobilista di passaggio.